Allora ragazzi, oggi non mi vedete perché sto facendo backstage, eh? Allora, passiamo la giornata a registrare, siamo in un mini studio, scusate le luci ma naturalmente sto registrando con il mio cellulare e quindi le riprese non saranno stupende, poi invece quelle che facciamo con la macchina più professionale verranno ovviamente meglio. Vedete, abbiamo un po' di pannelli, c'è un po' di trambusto, vi faccio vedere le cose esattamente come sono. Eh, a proposito, di cosa parliamo? Eh, ve lo mostro, eccolo qua, griglio, è un barbecue da esterni, ve lo mostro tutto, non riesco a farvelo vedere da più lontano perché appunto il set è finito, poi qui c'ho la roba, tra poco mi andrò a cambiare, giacchettina, la toc da chef, no, il cappello non c'entra, quello ovviamente no, mi sono portato persino le scarpe, che naturalmente nel video non si vedranno ma è la solita mia precisione svizzera, si vede che il DNA di mia mamma ha colpito, sapete che lei è svizzera, abbiamo le tende, l'acustica non è male, eccoci qua. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere la mia brutta faccia, ci provo, mi vedete? Ciao! Non so neppure se è venuta perché sono solo, poi guarderemo dopo. Va bene ragazzi, poi vi lascio ai video, per adesso ciao, buona giornata! Ciao!